L'elettricità, acqua e gas sono ben preziose, come i rali vanno a salvaguardare. In ambito domestico, nella nostra vita di tutti i giorni, possiamo ridurre lo spreco semplicemente adottando piccoli gesti quotidiani che ci consentono di risparmiare e preservare le nostre risorse energetiche. Piccoli gesti che fanno bene non solo alla terra, ma anche alle nostre tasche. Ecco alcuni consigli su come evitare gli sprechi e risparmiare in casa, iniziando dalle piccole cose. Vuoi risparmiare sulla bolletta della luce? Inizia a buttare via tutte le lampadine in incandescenza e sostituisci le con le lampadine LED a risparmio energetico. Il costo dell'acquisto che dovrai sostenere sarà leggermente più elevato, ma vedrai se sarà più che compensato nel medio termine. Lo stesso discorso vale per l'acqua. Fare la doccia al posto del bagno non è l'unico modo per risparmiare sulla bolletta. Installa i rubinetti aerati. Consente di risparmiare acqua mantenendo la stessa pressione e dimezzando i consumi. E poi cosa ne dici di chiudere l'acqua ogni volta che lavi i denti? Per l'igiene dentale e la rimozione del dentifrice ad esempio basta un bicchiere d'acqua. Grazie per la visione!